No, no, non ditemi che è vero, non lo puedo creer, non lo puedo creer, incredibile, ve lo dovete ascoltare questo video, perché io ve la devo dare questa informazione, perché è una roba incredibile, vi ricordate il primo video che ho fatto, Incredibile Uruguay? Ora ultimamente mi sta appassionando veramente questa nazione, sto facendo delle ricerche su internet, ma cosa ho scoperto che rende la cosa ancora più incredibile? Vi avevo detto in quel video che ho una grande ammirazione per l'Uruguay, vi avevo detto 3,2 milioni di abitanti, ma ho guardato meglio, sono 3,3 i milioni di abitanti. E dovete sapere, cosa che non vi avevo detto, che la capitale Montevideo ne ha 1,4 milioni, quindi quasi metà di nazione è la capitale, cioè metà della popolazione uruguaiana sono di Montevideo, della capitale. E poi ci sono delle altre città, sono delle piccole città, fra cui, ragazzi, è incredibile sta roba, ascoltate bene, è veramente interessante, aprite l'orizzonte, c'è una città chiamata Salto, al confine, 100.000 abitanti, ascoltate bene, 100.000 abitanti. E sapete quali giocatori sono di Salto? Gli altri non li ho guardati, ho guardato quei due campioni là davanti, Suarez e Cavani sono della città di Salto, una città di 100.000 abitanti, non lo puedo creer, normalmente tutto è quasi concentrato a Montevideo, Infatti, il campionato uruguaiano, sto, come vi sto dicendo, sto guardando un po', mi sto informando, con tanti documentari, sto guardando molto su YouTube, sto facendo delle ricerche, mi sta appassionando sempre di più questo Uruguai. 13-14 squadre delle 16 che giocano in Serie A, sono della città di Montevideo, tra cui ognuno ha il suo stadio, è uguale che siano stadi piccoli, ma ognuno ha il suo stadio, non come da noi in Italia, Noi siamo 60 milioni di abitanti, quelli sono 3,3 milioni di abitanti, e nella città di Salto, 100.000 abitanti, Suarez e Cavani, due dei, avevo detto dieci, ma anche forse due dei cinque più forti attaccanti al mondo. Incredibile, non lo puedo creer, vi devo bombardare con questa cosa, ve la devo condividere, ragazzi, perché io sto ammirando sempre di più questa nazione a livello di calcio, voi sapete che qua si tratta di calcio, io amo il calcio, e ho avuto sempre, ho nutrito sempre un'ammirazione verso questa nazione, ma ora che sto facendo delle ricerche, è incredibile. Tra l'altro c'è un'altra curiosità, una delle due squadre più titolate dell'Uruguay, il Peñarol, da cui poi tantissime squadre in Sud America hanno preso il nome da questo Peñarol di Montevideo, sapete di come deriva il nome Peñarol? Da una città del nord Italia, Pinarolo, nel Piemonte, è stata spagnolizzata con il nome Peñarolo, Peñarol, guardate che storia incredibile, comunque ragazzi, nella città di Salto, ripeto, 100.000 abitanti, 100.000 abitanti, sono usciti fuori due giocatori come Suarez e Cavani, Suarez e Cavani, cioè questi sono l'attacco della nazione Uruguay, sono dei, come si dice, paesani, di una città di 100.000 abitanti, tutte e due dell'87, e questa è una roba incredibile ragazzi, è incredibile, la dovevo condividere, perché voi mi chiederete ora, come mai viene a questa cosa qua, che cosa ci racconti, perché non ci parli della Serie A, attualmente il campionato del mondo è ancora più in là, ma ve lo devo dire ragazzi, aprite il cervello, informatevi sulle altre nazioni, a me piace tantissimo fare ricerche su Wikipedia, viaggio certe volte, no? Da una cosa clicco all'altra e faccio... mi piace guardare anche fuori dal mio recinto, ed è da condividere, ve lo dovevo dire, è una cosa, è una roba incredibile, ditemi cosa ne pensate, veramente sono rimasto a bocca aperta, detto questo non può essere vero, ditemi che non è vero, ditemi che non è vero, ma vi rendete conto, una città di 100.000 abitanti sforna due campioni, nello stesso anno pure, dell'87, due giocatori del genere, ragazzi stiamo parlando di Cavani, di Suarez, io sono veramente a bocca aperta, sempre ancora più ammirazione per l'Uruguay, a bocca aperta, tra l'altro anche come nazione è un esempio nel Sud America, ai tempi venia chiamato pure la Svizzera del Sud America, e anche oggi è l'esempio, un presidente incredibile, andatevi a ascoltare, fate le ricerche sull'Uruguay, ragazzi, c'è stato un presidente, adesso non mi viene il nome, Mugliacchino, non lo so, il presidente più povero nel mondo, praticamente questo si è tolto il 90% del suo stipendio, lo dava in beneficenza, e viveva semplice, vive tuttora molto semplice, veramente bella storia l'Uruguay, complimenti, va bene ragazzi, era da condividere questa cosa qua, io continuo a fare le mie ricerche, i miei viaggi, i miei... chissà, un giorno voglio andare veramente in Uruguay, a vedere questa nazione, è una roba incredibile, per questo video è tutto ragazzi, un caro saluto dal vostro Leo,